Signore, io vi posso garantire che le storie, non di solo corse e di uomini o di piloti, che c'è in questi 66 anni di autodromo, nessuno di voi, o qualcuno magari sì, ma altri, soprattutto i giovani, nessuno immaginano, ci sono storie che non hanno niente a che vedere con le gare, ci sono storie che non hanno niente a che vedere con i piloti, ma ci sono le storie che fanno emergere quello che questo popolo e questa cittadinanza ennese è capace, è capace di fare ed è capace di realizzare. Io ho scritto la storia di Jean-Lucien Bonnet, la prima parte, perché non avete l'idea della seconda parte e non ne parlerò questa sera, perché chiaramente non voglio togliervi la curiosità. La prima parte è quella della storia dell'epoca. Grazie anche a Nino Gagliano che nel 2015, in occasione della presentazione del suo libro, sponsorizzò a forza la mia elezione a presidente dell'autodromo. Io ho cercato di seguire, Ugo lo sa, lo sanno tutti nel mio ufficio, ho la foto con Nino perché è sempre con me, ho cercato di seguire quello che Nino mi ha insegnato per quanto riguarda sia i valori nell'amministrare un ente pubblico, ma soprattutto metterci la passione, perché a prescindere se è autodromo o se è qualsiasi altra cosa senza la passione che ognuno di noi ci mette e lo dimostra le presenze questa sera, non riusciremmo a fare. Casualmente giorni dopo la mia elezione, mia suocera ricorda a pranzo, gli ricorda il mio suocero e gli dice Antonio, ma visto che Mario è presidente e sta studiando la storia di Pergusa, ma ti ricordi quegli occhiali rotti di quel pilota? Mio suocero, poverino, si, giro della cravatta, si, ghinolfi, ma quale si, ghinolfi? Era tu quando guidavi l'ambulanza, quel francese che morì. Mio suocero mi ha portato, e ce li ho ovviamente, questi occhiali con l'elastico da pilota rotti. E' ormai, adesso è un po' complicato. Adesso poi vediamo di trovarlo comunque. Ebbene, lì nasce la mia curiosità di poter capire e di sapere chi era questo pilota. Questo pilota venne a correre nel primo, nell'occasione, nel weekend del primo Gran Premio di Formula 1 a Pergusa. All'epoca la Formula 2 non esisteva, ma c'era la Formula Junior, che era come la Formula 2. I talai erano uguali, cambiava solamente il motore. Ma addirittura i piloti, in quelle occasioni, si cimentavano in tutte e due le corse. I talai erano uguali, quindi il problema non c'era. E' chiaro che c'era un gruppo dirigente, Greca Militello, Giovanni Grillo, Savoca, Lomanto, e chiaramente Rino Mingrino, che è stato il papà di questo progetto, che iniziarono sin dal 1958 a creare le gare. Nel 1961 ci fu il boom, e nel 1962, con non pochi sacrifici, portarono questo grande weekend. Ebbene, questo 19 agosto, nella seconda gara, purtroppo ci fu il primo morto di Pergusa. E' ben descritto l'incidente. Perse la vita questo francese. Questo francese perse la vita, sì. Dal 1963 in poi troverete negli annali, fino agli anni 90, questo trofeo Jean-Lucien Bonnet, che veniva fatto poi in Formula 3. L'abbiamo letto un sacco di volte, voi vedete manifesti antichi con la scritta Trofeo Jean-Lucien Bonnet. Però nessuno si è mai chiesto cosa ci fosse dietro la storia di questo pilota. Bene, questo pilota venne a Pergusa, lottava per il campionato, e aveva perso il papà da tre mesi. Ma la sua tragedia più importante era quella, io non l'ho potuto scrivere questo, chiaramente, nell'articolo, perché questa rivista virtuale è a Nizza, ce l'ha il sindaco di Nizza, ce l'ha il presidente dell'ACI di Nizza, e ce l'ha la famiglia di Jean-Lucien Bonnet a Bandol. E dopo 15 anni, per questo ho detto poi, ci sarà una seconda bellissima parte di questa storia. Praticamente la moglie si suicidò qualche anno prima, un paio di anni prima, lasciando questo pilota con una bambina, all'epoca di una diecina d'anni. Era una famiglia facoltosa, erano degli ottici facoltosi, e lui cominciò a seguire le gare, probabilmente per rincorrere in qualche cosa, che forse ha trovato, non lo sappiamo. Ma in ogni caso cominciò a correre, andava forte, malgrado avesse 39 anni, perché vedete, un pilota, lo vedete in Formula 1, a vent'anni, a diciannove anni, sono, diciamo, spericolatissimi e riescono a rischiare. Ma un uomo a 39 anni, con una figlia, era concessionario, lui a Nizza, Lotus, Austin, roba varia, con un suo fido amico. Bene, quella volta è emerso quello che la cittadienna, secondo me, dimostra quotidianamente quello che è. La città fu attorno a questo morto, i funerali, io ho manifesto funerali, io ho tutto, sono riuscito a trovare tutto. No, non è lì, non è lì, adesso poi magari, qualche altra volta, in occasione di qualche seduta all'Accademia, vi farò vedere dei reperti eccezionali e soprattutto delle lettere di Ennesi eccezionali. bene, la città furono svolti i funerali nella chiesa di San Giuseppe, tutti a spese del comune dell'Aci, la salma fu spedita a Nizza via aerea all'epoca, accompagnata dal suo fido amico e meccanico Sigò, che in quell'occasione correva pure, e soprattutto iniziò una comunicazione, iniziò una corrispondenza con la mamma, con la signora Maurice e con Mingrino iniziò questo rapporto meraviglioso. Da dire che nell'occasione di quella gara il chi vinse Jackie Russo, a sua volta morì dopo qualche anno, che era in lotta con il campionato con Jean-Lucien Bonnet, fu quello che fece e propose appunto l'istituzione di quel trofeo. Doveva ritirare due coppe, due trofei, uno lo lasciò dicendo da questo momento ogni anno io chiedo a Perguso di intitolare a Jean-Lucien Bonnet un trofeo, per questo voi lo avete continuato a vedere. L'anno successivo venne a premiare la mamma, ho le foto della mamma di Jean-Lucien Bonnet, una signora anziana già vedova provata di aver perso il figliuolo l'unico maschio poi a due femmine e venne a premiare per due anni consecutivi ma quello che era toccante era ogni anno la messa in suffragio a San Giuseppe alla presenza di molti cittadini di autorità sportive e roba varie e ogni anno la corrispondenza dei 10.000 lire che mandava la signora altri 15.000 li metteva l'aci per questa messa per tutto questo diciamo ricordo che la cittadienna non ha mai all'epoca dimenticato. Poi passano gli anni ovviamente passa tutto e ritornando al discorso iniziale io ho cercato di scoprire tutte queste verità le ho trovate ma soprattutto ho cercato la famiglia e non c'è stato verso di trovarla. Io sono dell'avviso che nulla accade per caso nulla accade per caso mia suocera quel giorno si è ricordato di quegli occhiali che aveva dal 2016 al 62 quanti anni sono? Sono parecchi anni quegli occhiali io li ho portati alla Seng in Francia sono stato in una trasmissione simile a quella di chi l'ha visto per cercare questa famiglia e per per dare alla famiglia quello che era l'ultimo ricordo diciamo del familiare non c'è stato verso di trovarlo e quindi mi ero quasi rassegnato mi ero quasi rassegnato fino a quando a giugno dello scorso anno mi arriva una telefonata da Riccardo Caccamo non so se c'è casualmente poteva anche starci e qua chiudo non vi dico altro e mi dice senti Mario c'è una due pullman turistici a Pergusa che erano di passaggio per andare a Piazza Armerina c'è stata una signora che ha preteso che si fermassero lì perché a quanto pare lì è morto il padre questo è stato lo scorso anno giugno 2023 io non dimenticherò l'avata perché io ho litigato con mia moglie e di brutto e voi adesso capirete anche il perché perché appena ho saputo dove alloggiava io chiaramente ho lasciato tutto e sono andato da questa signora per cui ho immaginato chi fosse perché quando mi è stato detto che era sui 70 anni ho collegato il giorno era il mio quarantesimo anniversario di matrimonio quindi cercate di immaginare l'11 giugno se io non potevo non litigare con mia moglie e andare ad Acireale in quell'abbergo quello che è successo dopo e che succederà ve lo racconterò nel prossimo numero però una cosa è certa di queste storie non sono le uniche Pergus avrà ve lo annuncio il primo registro storico fotografico e documentale di un autodromo in Europa se qualcuno non se ne pende mi era stato promesso il basso della caserma dei carabinieri di Pergus il nuovo commissario un pochettino attentennato quando l'altro giorno gli ho detto che ovviamente era un obiettivo che ci eravamo posti con l'assemblea dei soci e con chi l'ha preceduta mi ha detto che tornerà sui suoi passi questo sarà qualcosa di spettacolare così come spettacolari sono stati i documenti che per altri versi sono sicuramente molto diversi sia per quello che rappresentano e per quello che significano lì è un'altra storia lì è la storia di un autodromo lì è la storia di ciò che l'Accademia per Gusea e quali erano i valori di Nino Gagliano che era per la storia dell'Accademia per la cultura per l'autodromo per la riserva per l'ambiente bene io dico che questo autodromo malgrado qualcuno ha tentato in tutti i modi di farne sparire quello che secondo me è un dono che la città di Enna ha a prescindere dalla convivenza che io sono pienamente d'accordo con quello che è la riserva ma io ho sempre detto che se cresce l'autodromo cresce la riserva se muore l'autodromo muore tutto oggi noi abbiamo avuto la fortuna grazie anche a Nino che mi sorregge sempre che la vita dell'autodromo fino al 2038 per intanto è garantita da impegni da contratti e e adesso faremo anche le corse perché i tempi sono cambiati i tempi non sono quelli di una volta dove c'erano 32 nel 91 ho visto la stagione di Nino l'altro giorno 32 weekend ma c'era una gara con una di contorno adesso in Italia ogni autodromo si e no fa 7 weekend con 12 gare bene nessuno vuole capire nessuno vuole leggere quello che invece è Perguso Perguso nel 92 con l'istituzione della riserva non può più ampliare non può più modificare lo stato dei luoghi quindi se adesso ci sono circuiti con megastrutture che possono ospitare 7 categorie 7 categorie significa una media di 30 macchine 3 per 7 21 210 macchine nessuno dimentica che noi abbiamo box per 34 macchine quindi la ricerca è sempre quella una gara importante e poi altre di contorno che si accomodano in un paddock di 20 mila metri quadri gli altri ce l'hanno di 90 mila un paddock dove purtroppo per far uscire la gente devi fermare la corsa perché dobbiamo attraversare la pista ci sono tante peculiarità che devono assolutamente convincere tutti che per gusa non può tornare quella che è di una volta perché una volta per gusa era all'avanguardia con quello che quella tecnologia e quella sicurezza offriva purtroppo non è stata adeguata per il semplice motivo che sono cambiati i tempi per questo motivo io spingo sulla storia perché la storia non la possono comprare né petrodollari né altro noi continueremo a fare vivere per gusa con attività tecniche come pirelli brembo ducato che danno la vita e tengono pulito tutto e soprattutto rinnovato e in più faremo le corse abbiamo le maratone abbiamo di tutto e di più è quel parco che a noi oggi manca e che va migliorato con l'aiuto di tutti oggi io rinuncio ad attività e mi duolo il cuore come il raduno internazionale dell'area perché non posso garantire mille posti letto noi non ce l'abbiamo i posti letto per garantire determinate attività è inutile perché siamo tutti facili alla tastiera di internet voi vedete di tutto e di più purtroppo non è così per convincere stranieri a venire ho chiuso un'operazione importante con la Grandi Navi Veloce un accordo fino al 2026 dove un bilico da 18 metri e 50 del costo di 2500 euro più IVA da Genova a Palermo l'abbiamo portata a 920 euro avvicinare l'Europa a Pergus attraverso le autostrade del mare così come le stiamo chiamando e soprattutto avete visto che ho portato in teatro l'autodromo in teatro per fare vedere la storia perché non ci si crede in teatro ho portato chi ha preso Jean-Lucien Bonnet dalla macchina morto che è il signor Andolina tuttora vivo il papà del compianto avvocato Caruso che non se l'è sentita di venire ma era tutta gente che ricorda di queste cose e quindi questa è storia non è la stessa importanza e caratura della storia di Gaetano ma è una storia che virtuosi ed importanti con cittadini e mesi hanno scritto e Nino Gagliano ci ha detto a tutti noi di continuare a dare queste testimonianze e per quanto mi riguarda non mancherò grazie Mario grazie a tutti